Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! E ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Among Us. Oggi siamo qua per andare a parlargli un argomento molto interessante, infatti andiamo a parlargli alcune novità riguardo al nuovo aggiornamento in arrivo di Among Us, dato che una delle community major della Innerslot, in particolare Victoria Tran, ha riusciato proprio un'intervista riguardo a ciò con numerose novità a riguardo e quindi andremo a leggerle assieme e a commentarle. Inoltre non manca vedere alcune news, come sempre, di Twitter che vengono postate giorno per giorno e quindi vi riporto i fatti dell'ultimo periodo. Quindi iniziamo subito partendo subito dalle news di Twitter che secondo me sono le più importanti. Eccoci qua nella nostra ormai famosissima mappa pagina di Among Us, Among Us normale, in questo caso non è più in offline dato che sono tornati, come vi avevo detto, a lavorare. In particolare hanno postato questa gif che rappresenta, come scrivono, cheese spots to relax stay, quindi un luogo rilassante per rilassarsi, per rimanere vivi. Qual è il tuo posto preferito nel gioco? Questo è il mio. Questo posto qua che hanno inserito all'interno sarà presente nella nuova mappa Hailship, la quale non sappiamo minimamente quando arriverà. Però vi chiedo di restare sintonizzati attivando la campanella qua sul mio canale per sapere appunto quando uscirà. E si vede questo personaggino marrone che vede questa televisione con il simbolino DVD che va su e giù. Molto probabilmente questa qua sarà la stanza admin di Ayrship. Infatti questo banchetto mi ricorda molto quello che è presente nella sala admin di Deskeld, il classico banchetto molto molto caruccio con la possibilità di entrare e a vedere tutti i personaggi all'interno della mappa, che sicuramente fa sempre molto molto piacere. Dall'altra parte abbiamo un post, proprio un video in questo caso, uno sneak peek molto probabilmente del nuovo aggiornamento, dove notiamo questo personaggino Harry che inizialmente prende questa piattaforma per spostarsi da una parte all'altra, cosa che vi ho già detto nello scorso video. Quindi se vi siete persi l'ultimo Among Us News andatevi a recuperare. Infatti come vedete nell'altro video avremo la possibilità di spostarci attraverso queste scale, in questo caso avremo la possibilità proprio di spostarci attraverso questo teletrasporto volante. Allo stesso tempo abbiamo questo personaggino qua che deve andare nella gap room e per andare nella gap room si mette qua sulla matita e notiamo come ci sia un altro tipo di scala. E questo qua molto probabilmente sarà una nuova tipologia di missione che attualmente non so bene a cosa serva, ma una cosa che mi è venuta in mente è questa. In questo esatto frame si vede come una volta che ci avviciniamo molto alle scale abbiamo la possibilità di schiacciare il tasto use e molto probabilmente col tasto use abbiamo la possibilità di scendere in modo automatico da queste scale. Quindi sicuramente una cosa molto molto interessante da tenere a mente questo è il tasto use. Poi si è stato rituitato questo teamwork su Among Us nella vita reale, ci sono i soliti meme e questa invece era la fan art che era stata fatta che vi ho presentato nello scorso video, che molto probabilmente può alludere ad una nuova mappa in arrivo nel gioco. Come sappiamo la mappa airship rappresenta il gioco della stessa inner slot Harry de Stickmin, quindi da tenere aggiornato e a mente questa cosa che è molto molto importante. Quindi parlando un attimo alla fine di tutte le da tirare le somme di questi ultimi post, la cosa più importante da tenere a mente è questo video qua, che rappresenta appunto il passaggio da una parte all'altra e questo tasto use che vi ricordo di ricordarvi. Dall'altra parte c'è anche questa scritta gap room che molto probabilmente indica una nuova tipologia di mappa che non è presente in nessuna delle tre mappe presenti attualmente nel gioco, quindi vedremo cosa ci riserverà al futuro, attualmente non so esattamente dirvi che cosa rappresenta il gap room, ma questo sabotaggio che è stato fatto, il quale non so minimamente cosa sia, prevede la schiacciatura di questo bottone. Molto probabilmente, dato che ci sono due frecce, mi viene in mente che sarà tipo uno stile ossigeno o comunque uno stile rattore, dove una persona deve premere il bottone da una parte e dall'altra parte deve esserci un corrisposto in grado di premere il bottone a sua volta e una volta premuti entrambi, diciamo che il sabotaggio verrà disinnescato. Andando a parlare però delle news più importanti, spostiamoci sull'applicazione Note che vi faccio vedere tutti gli ultimi aggiornamenti riguardo al nuovo aggiornamento che sicuramente vi interesseranno molto. Eccoci qua, questo qua è un articolo preso da un sito internet, praticamente viene detto che Among Us è sicuramente uno dei titoli più giocati del 2020 a livello generale, si ha vinto un sacco di premi anche al Game Awards, il multiplayer, il mobile game, e quindi ha sicuramente molta molta popolarità. La maggior parte delle persone che giocano a questo determinato tipo di gioco sono principalmente ragazzini dell'età dai 10 ai 18 anni, questo qua è il range, il gap di età, ed è sicuramente la sua portabilità fondamentale per la sviluppo del gioco. Infatti essendo un gioco mobile, può essere giocato da chiunque disponga di un determinato tablet o di un determinato telefono che abbia la possibilità di scaricare il gioco. Ma chiunque gioca e voglia giocare da computer, quindi magari per streamare o cose simili, non richiede per niente requisiti grafici alti, e quindi qualunque persona che abbia un qualsiasi tipologia di computer, a meno che proprio non sia vecchiotta vecchiotta, avrà la possibilità di giocarci. Questo sicuramente ha portato a uno sviluppo e a uno successo maggiore del gioco. Viene fatta un'intervista a GameSpot da questa Victoria Train, che è community director della Inner Slot e anche sviluppatrice dello stesso gioco, che è rimasta stupita da com'è il gioco abbia avuto così tanto successo, in particolare come i primi piani del 2021, la Inner Slot ha come obiettivo quello di ampliare la parte più social del gioco, con l'intento di creare una vera e propria community. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire arrivare a creare un sistema di profili all'interno del gioco che permette di avere le amicizie e quindi di creare lobby più velocemente, soltanto con persone che riteniamo appartenenti a noi, senza dover fare tutti i brighi del codice che portano soltanto a problemi. Uno dei punti forti del gioco sicuramente è la semplicità, che è anche dovuta a dei controlli che sono veramente basici, che sono presenti ormai in quasi tutti i giochi mobile, quali per esempio Brawl Stars, un semplice analogico per muoversi e un semplice spot di tasti da utilizzare, un use, sabotage, kill e così via. Dall'altra parte però cosa dice? Che la Inner Slot ha sicuramente grandi novità ancora segrete che arriveranno all'interno di quest'anno e sfortunamente non posso ancora parlarne, ma non vedo l'ora di condividere con voi a cosa stiamo lavorando. Quindi questa frase fa sicuramente alludere a un futuro aggiornamento, che come vi ho detto sarà un aggiornamento molto molto importante, che non dico andrà a rivoluzionare Among Us, a portarlo in un Among Us 2, ma ci siamo quasi, andranno a cambiare molte meccaniche del gioco, molto probabilmente ci sarà un nuovo ruolo, che come vi ho detto molto probabilmente sarà anche il dottore, che vi ho già spiegato il video, quindi andate a recuperare se non l'avete ancora visto, perché sicuramente è fondamentale. Niente ragazzi, il video finisce qua, io spero naturalmente che vi sia piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci abitiamo qua, sempre sul mio canale, domani all'ora 14, ciao gente!